oh mio dio senso ma che cos'hai fatto e la stormo vi ricordo che l'otto febbraio sarò al bologna nerd quindi mi raccomando venite in tantissimi perché vi aspetto a bracciapette dai senso spiegati che ci sono le ragazze dentro qualche miseria dai vieni qua ma ancora non ho capito cosa dobbiamo fare scusa allora prima di suonare te lo spiego così almeno non ci vai davanti senza sapere che cosa fare ascoltami negli occhi ecco bravo guarda che sguardo intelligente che ogni volta ascoltami allora praticamente adesso noi entriamo e loro ci insegnano come fare tipo palestra tipo faremo gli squat faremo la panca faremo tutte queste cose per diventare fortissimi capito così almeno non sono le uniche ad avere un bel fisico tra il gruppo capito perché parli così veloce vabbè entriamo perché così velocemente ho tanta voglia campanello voglio la pasta no che cosa ragazze ma lo sentono eccole ehi ragazzi siamo noi ciao ciao ragazzi che stanchezza ah sì state facendo palestra già perché siete confie certo mica siamo sfaticate noi eh ok ho capito dai ci insegnate un attimo come iniziare state almeno finendo sì sì dai più o meno vabbè cioè avremmo fatto altre tre ore però va bene se proprio siete venuti e altre tre ore capito senso di cosa stiamo parlando qua queste qua tipo adesso sono diventate atlete non lo so dai ma è vero guarda guarda i tuoi muscoli flaccidi guarda questa pancetta qui non toccarmi dai secondo me quale sarebbe il miglior corpo da allenare fra il mio e quello di senso perché diciamo senza perché perché sei troppo cicciotto ma perché aspetta non è vero non sono cicciotto anzi sono magrissimi guarda due rotolini lì ho capito basta sono rotto le scatole andiamo a fare palestra e non c'è ti togli quegli occhiali da sola che era per farti restare sì bravo 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 allora perché però non ho capito perché quindi fate la palestra per i fatti vostri qua non cosa non si fa per non pagare la tessera ma no mi ci ha portato qui e violet io non conoscevo questo posto vabbè non lo so l'ho fatto entrare tre secondi e già ci porti a tutti a e io chi ti ho dato il permesso vabbè sì in effetti hai ragione importante che la posta c'è un bel allora non sono c'è un bel senso questi sono pesi li utilizzeremo per farci i muscoli per diventare sempre più forti capito dai ragazze adesso voglio che un attimo ci spiegate cosa dovremmo fare da dove dobbiamo iniziare ok aspetta faccio una piccola riunione con violet vieni qua ok oriamo fuoci un po che non puoi sfaticare va bene che cosa che cosa ci voglio far fare prima le braccia prima la parte di ingrassoni secondo me a sbrisere va bene la pancia mangiare con i muscoli ti è vero si guarda è messo di lato e si vede abbastanza ok ok allora ok ragazzi ok diteci struttrici inizierei fare la pancia quindi dovrei stare in uno di questi esatto anche perché sei abbastanza di sottello come come si fanno tipo così esatto esatto devi fare 4.000 in un minuto 4.000 in un minuto per circa 2 ore tu invece dovrai iniziare con questi pesi le faccio a terra è un po faticoso ed è ancora più difficile però io sono sbrisere ci riesco sono fortissimo perché misera sì che sono stanco cavolo ok lui dovrà iniziare a fare questi pesi da più piccolo e poi quanti minuti quanti minuti di cosa eh già è finito vai a correre come come corre aspetta si corri corri sbris vai corri vai corri aspetta sto correndo aspetta devo aumentare la velocità come sia meglio aspetta fatemi posare questo come si aumenta la velocità è qui oddio oddio no 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 aspettate 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 non ci riesco mamma mia meno male che mi sono sono atterrato qua sopra è proprio esagerato mamma mia dobbiamo aiutare tu riposati un attimo hai due minuti e tre secondi allora puoi sbatterseli anche in testa se vuoi però è un po' pericoloso devi alzarli in alto devi alzarli e abbassarli perché lui sta facendo le cose più fighe devo alzarli abbassarli così ma perché tu hai pancetta lui invece è un po' flaccido nelle braccia tu perché mangi troppi dolci eh perché? perché? no 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 basta basta dolci mi sono scurato come si prendono queste cose in mano ah perfetto vabbè facciamo una cosa vai a correre anche tu ma io non so più correre mi sono dimenticato qualche anno fa ma scusatemi un attimo so che non è il mio campo ma se Ada allenarsi le braccia perché non va a fare allora pugilato lì con quel sacco da box è un'ottima idea beh sì ci metto un po' più di tempo vai Senso vai Senso vai Senso fai di vedere Senso di evitare no Senso vai no Senso vedi che è fatto di sabbia sabbia compatta è molto forte ok non ce la faranno mai noi non ce la faranno mai non è bene dai Senso porca miseria dai devi iniziare a dare i punti ma così guarda vedi tipo così fai a ti stanchi oh mio Dio ok io vado un attimo a bere qualcosa va bene? ok bene noi continuiamo ad allenarlo sì sì oh mio Dio mamma mia non pensavo è così tanto faticoso fare palestra mi ero altri 20 adesso adesso dove cavolo dovrei andare a fare allora ho sete quindi bevo qualcosa buono l'acqua però cavolo ho sonno adesso mi è venuto il sonno dovrei andare in palestra oppure dovrei andare a dormire io ho sonno riservi di qua? sì arrivo abbiamo un bel allenamento vi sto raggiungendo vi sto raggiungendo vai vai mi sa che però qualche minuti arrivato vai un attimo qualche riposino magari me lo posso fare qua quello che devo fare ma che fine ho fatto? ma stavo arrivando quello sfaticato guardalo guardalo a me tre urliamo ok? ok uno sbrizzere eh? chiamiamo il suo nome uno due tre sbrizzere cavolo come sono riuscito a mettermi in questa posizione stramba ok che cosa è successo? ah sì ragazzi scusatemi mi ero solamente riposato a tre secondi erano dai guardate amico senso che punto è? vieni vieni che punto è amico senso ma che diavolo? cosa? senso vatti oh mio dio è la quindicesima che rompe oh mio dio senso ma che cosa hai fatto? sei potentissimo hai i muscoli che sono giganteschi oh mio dio sconco tutto no senso no aspetta portata è fortissimo sbocchi i vetri in tre secondi mangio i tiberulani a morse no cosa? no 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 noi dai più duri i tiberulani costa mille euro costa mille euro non mangiarlo no non farlo aspetta scusami no 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 Come facciamo? Calde la zucchero! Ci serve qualcuno di forte per fermare sense Che penso io? Spray! Fermo, fermo, fermo Lo vuoi un biscotto? Oh, sì Ok, vieni con me Vieni qua, piano, piano Svegliati Sotto Viste che una, ci sono dei biscotti mei? Allora, l'ho messo nella panca, non si sveglia Fai una cosa, dagli uno schiaffetto piano Tieni la cale da zucchero No, dagli un piccolo schiaffetto, magari si sveglia Io devo farlo? Sì, piano Ok Piano? Wow, l'ho mandata fuori a terra Cosa dobbiamo fare? Chiamare un'ambulanza? Io farei fossa e ciao No! Sto scherzato, ovviamente, riprenditi, svegliati Dai, svegliati Basta, birchiano! Non è una buona idea Non è una buona idea Forse dovremmo chiamare la polizia No, la polizia è l'ambulanza Vinci, non è che potremmo portarlo tipo in camera? E come lo porti in camera? Trasciniamolo in tre Senza, tu che sei più forte vieni Sto prendendo le forze Devo andare a dormire Vuol dire che la dobbiamo spostare in due? Ok, pronta Vabbè È troppo pesante Sai che ti dico? Tanto qui c'è il tappeto Rimarrà qua Vabbè, sì E poi da quello che sento sta un po' russando Quindi penso sia Foste solo stanco Sì, è stanchissimo Sì, sì E non ha fatto proprio nulla Vabbè, facciamo una cosa Non è per un po' Visto che loro dormono Direi di fare gli squat Li finiamo queste tre ore? Esatto Dovemmo fare un'altra serie da 40, no? Ok, ok Io lo faccio così Dietro al... Insomma al... Allo specchio, sì Non mi vediamo Ok Pronta? Ok Uno Due Tre Ho finito Me ne vado Ciao Cosa? Ma era sveglio Ma era sveglio Adesso andiamoci 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 Ho visto Il Gesù Ho visto Il Gesù Adesso Ho visto qualcosa Di bellissimo Scappo Bye 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 Grazie.